Arriverà entro fine anno la sentenza del processo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa d'Imperia precipitata dal balcone della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca. Seduti sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca ed Alessandro, accusati di morte in conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale. Secondo l'accusa infatti la ragazza sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Suicidio invece secondo i due ragazzi aretini. Nel corso dell'udienza di oggi ci sono state calendarizzate le ultime udienze. Il 6 dicembre sarà il turno della discussione del PM e delle parti civili. Il 10 dicembre la parola passerà alle difese ed infine in programma per il 14 dicembre le repliche e la decisione. Ancora irreperibili invece gli ultimi due testi della procura, i due turisti danesi che alloggiavano nella Camera accanto alla 609 e che avrebbero sentito un urlo quella notte secondo chi indagga di Martina e poi un rumore di corsa lungo le scale, forse quella di Alessandro. Il procuratore Roberto Rossi avrebbe dunque proposto un accordo tra le parti in base al quale potrebbero essere verbalizzate le dichiarazioni rese dai testimoni che vivono all'estero acquisite durante le indagini. Un passaggio che potrebbe così sbloccare il processo al momento paralizzato. La decisione della massima importanza per i svolti che può avere quindi è bene che comunque gli assistiti la valutino in maniera ponderata, approfondita con un adeguato spazio di riflessione perché poi dopo, ripeto, gli effetti potenzialmente potrebbero essere molto delicati ovviamente di dare il consenso ad acquisire le sommare informazioni appunto. L'avvocato difensore di uno dei due imputati ha infine chiesto nuovamente l'audizione del sostituto commissario Laura Bono. Ci sarebbe infatti un nuovo testimone oculare oltre alla cameriera Franzisca. Nell'hotel di fronte, nell'hotel La Cala, ci sarebbe stato praticamente un altro testimone oculare che era nel balcone a fumare che avrebbe visto la scena. Ovviamente la polizia giudiziaria all'epoca ha effettuato delle indagini per risalire a questo testimone oculare. Questo non è stato possibile, ciò non toglie che comunque questa pista sia meritevole di approfondimento.